Ciao amici, sono Logs, bentornati sui fatti e le opinioni di Logs, il canale per i veri malati di sport. Serie A in questo video, il posticipo del lunedì, Lecce contro Udinese. Partita sulla carta fondamentale, partita sul calendario segnata col circoletto rosso, perché sfida salvezza incredibile a tre turi dalla fine del campionato, è finita 2-0 per l'Udinese. Però, bisogna dire una cosa, per il Lecce, francamente, questa partita è cominciata e finita direttamente sabato sera, quando il Milan ha battuto il Cagliari e con questo risultato ha permesso di conquistare in anticipo la salvezza. Quindi la gara di oggi, devo dire francamente, non è stata affrontata da Lecce con la solita gagliardia, con il solito modo aggressivo e pugnace che tante volte abbiamo visto sul terreno di gioco. Per l'Udinese, invece, era una partita fondamentale, Cannavaro in panchina, risultati positivi nelle ultime giornate, uno scontro diretto, prima di altri due scontro diretti, un calendario incredibile per l'Udinese in ultime giornate. Devo dire che i primi minuti di gioco per ora erano stati piuttosto strani, perché comunque l'Udinese non sembrava la squadra lì venuta a Lecce per portare a casa punti fondamentali per la salvezza, giocava molto spaisata, molto lenta, e Lecce, anche senza strafare, riusciva a creare qualche occasione anche pericolosa. Purtroppo, anche in questo caso, una squalifica ci ha tolto il privilegio e la possibilità di vedere il gran bel calcio con il 4-4-2, perché stavolta era squalificato piccoli, è partito davanti solo Kristović. Io, ragazzi, continuo a pensare che per questo Lecce, il Lecce di quest'anno e il Lecce di questa finale della stagione, il modulo perfetto, il modulo corretto è il 4-4-2. Io sarei partito francamente con Pierotti dall'inizio a cercare di mettere in difficoltà questa difesa udinese, nel quale è stato un fantastico Neuven Perez, che è stato il giocatore probabilmente che ha guidato la formazione di Cannavaro a prendere un po' più di coraggio, un paio di salvataggi decisivi nel corso del primo tempo, quando c'era stata qualche azione comunque pericolosa da parte del Lecce. Poi l'Udinese piano piano ha cominciato a prendere un po' in mano il centrocampo, grande Wallace, ottimo Samaric, davanti bene Sassessa, Sassessa ha fatto un'azione spettacolare con un tiro finito fuori di poco, sarebbe stato, mi avviso, uno dei gol più belli dell'intero campionato. E poi Lucca, Lucca lo ricordavo nella stagione, un paio di stagioni fa al Pisa, quando il Pisa alla fine del campionato ha perso la promozione contro il Monza, in quell'inizio di stagione col Pisa che vinceva tutte le partite, Lucca era veramente grande protagonista. L'esperienza in Olanda, ora qua l'Udinese, l'ho visto abbastanza, sempre un po' svogliato, questo è un lato probabilmente del suo modo di giocare che sarà difficile cambiare, però al di là di quello l'ho visto comunque sapere essere decisivo ed è lui a trovare il gol dell'1-0 con un gran colpo di testa su un centro di Pagero e baschirotto un po' lento nell'andare a chiudere Udinese. Peraltro vi racconto un aneddoto personale che è la mia squadra del cuore, ero innamorato dell'Udinese negli anni 80, quando andavo a scuola, ricordo l'Udinese dell'82-83, io avevo 10-11 anni e questa formazione che ha pregiunto 20 partite su 30 giornate di campionato mi aveva assolutamente affascinato con Edinho, il grandissimo Nazareth Filo Edinho come difensore dietro, come libero, come si usava una volta e Ive Casurias, un giocatore croato, jugoslavo ai tempi, che era veramente molto molto valido, era noto vedere anche a San Siro una partita contro l'Inter con un gol di Gerolin nei primi minuti di gioco e il pareggio di Juari dopo, ecco poi negli anni questa passione per l'Udinese diciamo quando sono cambiate un po' le cose, che mettono la proprietà e tutto il resto si è persa, però rimane una squadra e vederli con questa maglietta che era la stessa che mettevano, o molto simile a quella che si metteva in quegli anni gloriosi, mi ha veramente, ha riacceso qualcosa nella memoria, per cui ci tenevo a raccontarvi questo piccolo aneddoto, l'Udinese va alla pausa avanti 1-0 con una partita, non dico in controllo, ma comunque nel quale Lecce è veramente troppo poco pericoloso e anche nel secondo tempo, devo dire, il canovaccia cambia piuttosto poco, tante sono le prestazioni anche individuali negative da parte del Lecce, che ovviamente dico per questa partita, ora poi faremo i video anche di fine stagione, dove vedremo un po' in generale come è stata la stagione, una stagione straordinaria, molto positiva, una stagione nella quale il Lecce di fatto non è mai stata veramente, a mio avviso, realmente in bilico e nel quale bisogna comunque anche ringraziare D'Aversa per il lavoro che ha fatto, per come era uscito dai blocchi a inizio stagione, per tante cose buone che è riuscito a fare anche il precedente mister, poi l'attestata a Henry è stato sicuramente, ho letto poi che gli amici lesionati hanno preparato qualcosa proprio su questo momento storico, devo ancora vederlo, analizzarlo, ma sarà sicuramente molto piacevole e interessante, come sempre è stato il momento chiave per arrivare ai gotti, gotti con semplicità, si hanno potuto trovare poi le soluzioni, però nella gara di oggi purtroppo bisogna dire che la prestazione del Lecce è molto insufficiente, male Pongracic, male Baschirotto, male anche un po' al centrocampo così così, male Raffia, Dorgo malissimo, io con Dorgo continuo a pensarlo ragazzi meglio che stia un anno ancora a mettere fieno in cascina, a mettere esperienza prima di pensare a fare qualcosa di più, un passo in più nella sua carriera, Pierotti è finalmente entrato poi nel secondo tempo, tocca pochi palloni, ma ogni pallone che tocca è subito pericoloso, c'è una bella azione quando poi entrano anche Gonzales e ci sono gli altri campi, Uden e un suo tiro da fuori che porta alla parata di Okoje, però nel finale il Lecce ci prova sempre in questa maniera piuttosto tranquilla di questa serata di maggio e dell'Udinese invece deve fare il gol del 2-0 proprio con i nuovi entrati che costruiscono molto bene un'azione nella quale ancora una volta è Baschirotto purtroppo decisivo e negativo perché perde il duello aereo con Davis, c'è una bella parata del portiere Falcone e poi è Samarzic che in mezzo delle statuine è il più rapido a mettere il pallone in rete. Finisce così, finisce 2-0, il Lecce è a 37 punti e se la vedrà in casa con l'Atalanta nel weekend in quella che si può essere veramente la festa e deve esserlo e mi aspetto anche una partita diversa, spero anche che verrà giocata con il modulo più adatto per questo Lecce e spero di vedere qualcuno spettacolo comprensivamente un po' migliore dal punto di vista tecnico, l'Udinese invece che sale a 33 punti e in questo momento sarebbe salva, ha la chance di implementare ancora di più questo momento positivo giocando in casa contro l'Empoli, quello che sarà un'altra grande sfida salvezza. Veniamo alle pagine, intanto ragazzi vi ricordo la bruma del cuore, grazie per chi lo sta acquistando e mi va dei messaggi rifotto con il libro, 36 poesie d'amore, il regalo ideale, anche se dalla festa della Mabba poteva essere il regalo, magari fatto in tempo ancora a recuperare, a regalare il mio libro di poesie e vi ringrazio di cuore. Veniamo alle pagine di questa gara, 6 e mezzo a Falcone, che la sua parata buona comunque sul Davis l'ha fatta, 5 e mezzo a un anonimo Gendré, oggi poco incisivo, male tutti e due centrali, 5 a Baschirotto e 5 a Pongracic, una delle peggiori prestazioni del campionato, 7 a Gallo, nazionale, io lo voglio gli europei assolutamente, anche stavolta nettamente il migliore del Lecce, 6 a Blenna, monito nel primo tempo per abbattere Sassess poi sostituito, 6 e mezzo a Ramadani, Ramadani trovo che sia un giocatore invece che oggi si è comunque sbattuto tanto e ha recuperato palloni, è stata una prestazione discreta a mio avviso, 5 e mezzo a Almquist, uno dei migliori comunque lì davanti, 5 a Rafia, 4 e mezzo a Dorgu, che stavolta ho trovato proprio in una giornata molto negativa e 6 a Christovic un po' troppo abbandonato, dei subentrati io do comunque un positivo a Pierotti proprio per il fatto che il poco che tocca lo riesce sempre a trasformare in qualcosa di interessante, male Beriscia che si è fatto vedere troppo poco così come Uden, Gonzales un po' di confusione magari in giro per il campo è riuscito però a farla, 5 e mezzo a Gotti, ripeto, vale quello che vale, l'importante è la salvezza, complimenti anche stavolta a Lecce, squadra fantastica, sono veramente felice di questa salvezza ancora raggiunta e vedremo poi, ne parleremo appunto nei prossimi video. Intanto l'Udinese che spero si salvi comunque anche lei, veniamo alle pagelle, Okoye 6 e mezzo, un paio di belle parate nel finale, 7 e mezzo a Perez come hai detto uno dei migliori lì dietro assolutamente decisivo in difesa, 7 a Bijol, un paio di interventi, qualche palla buttata anche in tribuna come si faceva una volta, bravo, efficace, 6 e mezzo a Christensen magari coi piedi non proprio un giocatore molto raffinato ma anche lui concreto, e Zibue 6 e mezzo infortunato nel finale, 7 a Wallace, grave cooperatore di palloni veramente valido, 6 e mezzo a Pajero col bell'assist del gol del 1-0, 6 a Camara su un'altra fascia, 7 e mezzo all'ottimo Samaric che ha predicato del calcio veramente di buon livello, 6 e mezzo a Sassess, spettacolare, giocatore di tocco e veramente valido, 7 a Lucca, 7 anche a Cannavaro, mai avrei pensato francamente nella vita che Cannavaro sarebbe riuscito a fare quello che sta riuscendo a fare, bravo, perché lo scorso anno a Benevento fu veramente catastrofico. Per quanto riguarda i subentrati, alla fine Davis positivo, per era positivo, e Bosuele, anche lui ha fatto bene, i pochi minuti che ha giocato, 23 falli e 3 ammoniti per l'arbitro Massa, il voto a Massa è il più alto che do quest'anno, perché secondo me ha arbitrato comunque bene questa partita, e poi perché è un mio piccolo risarcimento morale, che vale niente ovviamente, poverino per lui, perché è stato beffato sul filo di lana e la seconda disegnazione italiana per gli europei, come sapete non è andata a lui, insieme a Orsato, ma è andata a Guida, Guida è un buon arbitro, ma avrebbe potuto arrivare più avanti a coronare il sugello di una carriera con una manifestazione importante come gli europei, secondo me Massa da anni è un arbitro comunque valido, comunque di qualità, non so per quale ha ragione, certo ha sbagliato una partita di Champions League, Lipsia-Real, Real-Lipsia, però per questo si è perso la possibilità di coronare la carriera con la manifestazione europea, per cui il mio voto è 8, è 8 e mi dispiace, mi dispiace davvero tanto e questo vi fa capire anche come sia difficile comunque la vita degli arbitri che hanno i loro obiettivi, ci si impegna, si lavora e poi qualcuno decide che il risultato per il quale si è lavorato non arriva e non è facile, non è facile da affrontare, per cui Massa, bravo, in gamba, spero che possano arrivare altre possibilità di andare a fare qualche grande manifestazione importante internazionale. Grazie di cuore ragazzi, iscrivetevi al canale, fatemi sapere i vostri commenti, alla prossima, ciao a tutti e un bacio da Logs!